Ora possiamo solo aspettare, disse il dottore uscendo. Vidi Ethan sul letto d'ospedale pieno di dispositivi medici e il mio cuore affontò. Poi Elliot si avvicinò e disse, Charles, forse devi andare a casa a riposare, non c'è nulla che tu possa fare ora. Sì, aveva ragione, dovevo essere più forte che mai e infatti se non fosse stato per lei non ce l'avrei fatta a superare questo periodo folle. Anche se Elliot era una novellina nel reparto, diventammo amici subito e l'ero molto grato, le sorrisi offrendomi di portarla a casa. Poi andai dal mio amico Cooper, era appena tornato dall'estero, eravamo amici da anni, ci siamo conosciuti alla festa gay, lui era bisessuale e io gay, almeno lo ero stato. Ora non ero più sicuro, vedete capì che ogni volta che ero con Elliot il mio cuore batteva più forte del solito, può essere che io ero così perso nei pensieri che non vi di Cooper aprire la porta. Mi guardò e disse, amico, che ti succede? Sembra tu abbia visto un fantasma. Dissi che ero nei guai e che mi serviva il suo consiglio. Dal suo divano gli spiegai che il mio tipo, Ethan, era in ospedale, ma che provavo qualcosa per una ragazza, Elliot. Lui mi guardò con simpatia negli occhi, mi diede una gomitata e disse, Charles, benvenuto nel mio mondo, va bene provare qualcosa per uomini e donne, è normale. Gli chiesi cosa fare e disse che dovevo solo ascoltare il cuore e farlo decidere. Poi amicò e mi chiese di vedere la foto della tipa che mi rendeva bisex. Aprì il telefono e gliela mostrai. Lui era scioccato, i suoi occhi si spalancarono e gli chiesi se anche lui pensava fosse sexy, ma poi disse qualcosa che mi gelò il sangue. La mia ex, fratello. Oh, cosa? Non può essere vero. Poi Cooper disse che uscivano e avevano pure fissato la data di nozze, ma poi era successo qualcosa e si lasciarono. Era troppo strano. Che possibilità c'erano? Voglio chiedere di più su come era lei e sul perché si erano lasciati, ma dell'espressione sul suo viso era doloroso parlarne. Inoltre mi faceva anche sentire un po' a disagio. Non riusci a dormire quella notte. Preoccupato per Ethan e pensando a Elliot e Cooper, era tutto così strano. L'indomani, mentre ero concentrato al lavoro, il manager si avvicinò e disse, Charles, complimenti, stai andando bene. Non pensavo che uno della tua squadra riuscisse ad essere promosso così presto. Eh? Di cosa parlava? Nessuno fu promosso, ero così confuso. Notò il mio sguardo perplesso e disse, Non lo sapevi? Elliot ha preso il posto di Ethan come direttore. Cosa? Com'è successo? Lo guardai sorpreso e lui continuò. Gira voce che Elliot sia la figlia del presidente, quindi è normale che prenda quel posto. Ha nascosto bene la sua identità, no? Poi si mise a ridere e se n'è andato. Aspetta, se Elliot era la figlia del presidente, era anche imparentata con Ethan. Era la sorella di Ethan, vero? Non poteva essere. Aveva finto di non conoscerlo nemmeno all'ospedale quel giorno. Corsi subito a cercarla e dissi, Ehi Elliot, perché non mi hai detto che eri la sorella di Ethan? Sai che io e tuo fratello ci amiamo. Perché me l'hai nascosto? Elliot sospirò e disse, Beh, in realtà non volevo celarlo, ma i miei mi mandarono ad aiutare Ethan a gestire l'azienda. Non ho esperienza, quindi volevo essere trattata come un novellino per imparare davvero. Ecco perché nascosi l'identità. Mi dispiace. Beh, ha fatto la cosa giusta, dato che sentì molti gossip alle mie spalle quando iniziò ad uscire con Ethan. La compativo. Tutto aveva senso. Ecco perché avevo una cotta per Elliot. Era così simile ad Ethan. Gli stessi profondi occhi blu, gli stessi zigomi, pure gli stessi gesti. Aveva la stessa allergia ai gamberetti. Ed avevano abitudine di far girare la penna quando pensavano. Come avevo fatto a non notarlo? E se non fossi stato innamorato di Elliot, ma solo di com'è così simile ad Ethan? Ok, questo mi fece sentire meglio. Quindi era Ethan che amavo alla fine. L'indomani andai da Ethan con un enorme mazzo di girasoli, il suo preferito. Mentre attraversavo l'ingresso, vidi Cooper. Ehi, ci vediamo ancora! Lo chiamai. Cosa ci fai qui? Stavo andando dall'ex che aveva avuto un incidente. E io andavo dal mio tipo che aveva subito la stessa cosa. Andiamo insieme, dissi. In che stanza è il tuo ex? 1502, disse Cooper. Sei sicuro? Cioè, era alla stanza di Ethan, pensai. Poi ho capito. Aspetta, il tuo ex si chiama Ethan? Chiesi, sperando non lo fosse. Ehm, come fai a saperlo? Disse Cooper. Perché Ethan è il mio ragazzo, dissi. Era troppo imbarazzante. Come era possibile avere così tante coincidenze? Non potevo crederci. Pure Cooper era scioccato e disse era per Ethan che lui ed Elliot si lasciarono. Si innamorò di Ethan e la famiglia di Ethan era stata così sconvolta da cacciare Ethan da casa. Oh, ecco perché Ethan non parla mai della famiglia e mi disse di non chiedere mai di loro. Dopo il casino, purtroppo la loro relazione non funzionò. Così Cooper prese le sue cose e studiò all'estero per iniziare da capo. Oddio, era molto da digerire. Mi chiedevo come si sia sentita Elliot quando scoprì che il suo futuro marito era innamorato di suo fratello. Cooper ed io eravamo scioccati, ma non quanto lo saremmo stati un attimo dopo. Stavamo per entrare nella stanza quando sentimmo la voce di Elliot. Stava parlando con un tono cattivo. Ethan, aspetta e vedrai. Come starai quando il tuo tipo si innamorerà di me? Sarà doloroso, vero? Lo costringerò a lasciarti e ti servirà dopo ciò che mi hai fatto. È ora di assaggiare la tua stessa medicina. Mi bloccai quando disse questo. Mi girai verso Cooper e lui era scioccato quanto me. Poi fece irruzione dalla porta e lo seguì come una furia. Elliot quasi cadde per la sorpresa a tivederci. Ehm, perché, perché siete qui? Disse. Ehi straniero, disse Cooper. Dai Elliot, dacci un taglio. È passato molto tempo. Le cose tra noi erano finite. Lascia perdere e vai avanti. Cooper era così furioso. Ma Elliot rise e disse. Datti una calmata Cooper. Non è per te. Non provo niente per te. Voglio vendicarmi di mio fratello. È stato così crudele portarti via e rovinarmi la vita così. Poi, con occhi pieni di odio, guardò il povero Ethan che giaceva lì. Ero furioso. Capì bene quello che Elliot aveva fatto. Flirtare deliberatamente con me per portarmi via da Ethan? Come poteva? L'affrontai sul posto. Cosa hai di sbagliato? Perché mi tratti così? E il tuo povero fratello? Non pensavo. Prima di continuare, però, lei mi fermò e disse. Charles, aspetta, ascolta, ti prego. È vero che volevo farlo all'inizio, ma poi io mi sono innamorata di te. E pensavo che anche tu mi iniziassi ad amare. Scusami. Elliot cercò di prendermi la mano, ma ero disgustato. La spinse via e dissi. Allontanati da me. Non voglio più vederti. Lei pianse, ma ero troppo sconvolto per pensarci. Ero inorridito che lei l'avesse fatto. Ero deluso pure da me per essere caduto nella trappola. Povero Ethan. Non si meritava questo. Lo fissai sdraiato sul letto d'ospedale. Se lo sapeva, continuai a fissarlo e vidi le sue dita contrarsi. Oddio, si stava svegliando. Cooper andò a chiamare il dottore, mentre rimasi con Ethan e cercai di parlargli. Ethan, Ethan, sei sveglio? Il dottore fece dei test e disse che Ethan aveva ripreso conoscenza e che si sarebbe svegliato presto. Io e Cooper eravamo al settimo cielo. Ero sollevato che sarebbe stato bene. E forse pure Elliot provava lo stesso, visto che se ne stava in un angolo con le lacrime che scendevano dagli occhi alla bocca che si sollevava in un sorriso lieve. E come previsto, una settimana dopo Ethan aprì gli occhi. Non fui mai così felice in vita mia. Iniziò fisioterapia e passai molto tempo ad aiutarlo. Anche Cooper venne a trovarlo. E ci facevamo una bella risata su quanto fossimo collegati. Questo è il vero destino, perché chiamarlo coincidenza sarebbe un eufemismo. Quanto ad Elliot, era scomparsa. Ma giorni dopo, quando Ethan, Cooper ed io stavamo parlando in ospedale, apparve un'email sul mio telefono. Era Elliot e diceva che era dispiaciuta per cosa aveva fatto e che sperava che Ethan e io potessimo perdonarla. Poi disse che ci augurava felicità. Viadi la notizia a Ethan e Cooper ed eravamo sollevati. Potevamo essere amici, dopo tutto. Cioè, Elliot può diventare mia cognata un giorno, no? La vita è bella. Sono grato che Cooper sia apparso e che tutto sia uscito fuori. Non mi sarei perdonato se avessi lasciato Ethan. Lui è sempre stato quello giusto per me.